Ciao a tutti caciotti, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi siamo in una mappa della 1.13, infatti come potete vedere l'ambientazione è spettacolare. Ho nel mio inventario due bicchieri, due bicchieri, due secchi con del pesce tropicale e del pesce del merluzzo e questa mappa si chiama Underwater Challenge. Quindi è una sfida subacquea in Minecraft, come vedete sono sott'acqua, in questo momento mi trovo all'interno di una specie di dome, non so come si dice in italiano, una cupola e sono curioso di leggere le indicazioni. Ah ho anche uno zainetto per fortuna, dentro lo zainetto cosa ho? Niente, però ci metto 16 anni per accoglierlo, mi dai c'è un piccone, non ho un piccone, cacchio, scusa che l'ho preso a fare, oh madonna. Vabbè ci sono degli oxep, io prendo tutto quello che c'è nelle ceste perché non so di preciso che cosa devo fare. Comunque challenges, quali sono le challenges? Devo catturare un pufferfish in un secchio, devo scavare e collezionare un blocco di corallo, prendere un pet, come un pet, che vuol dire un pet, ok? Fare un conduit, ricreare una foresta, uccidre tutti i mob ostili, abbracciare un creeper, non lo so, sembra impegnativo. Comunque come potete vedere non sono in Adventure Mode, perché questa è una survival map, non è una survival map eccessiva, nel senso, come avete visto sono challenge, non è una vera e propria survival che devi sopravvivere. Però, insomma, Mr. McDiggs, non so perché, ho l'impressione che qua sotto ci sia qualcosa, infatti abbiamo una pala, allora le challenges, le regole e i tips, le mettiamo un attimo da parte. Abbiamo delle patate, dei meloni, carote, questo è cibo, abbiamo grass block, ottimo, e abbiamo un botto di terra anche, prendiamo un po' di terra, perché in tutto questo, ragazzi, io ho bisogno, qua c'è della terra per fortuna, di mettere a buon uso la terra che ho, ho bisogno di cibo qui, non facciamoci prendere la mano. Ho anche bisogno di legno, senza ombra di dubbio, però non vorrei andare a prenderlo lì, nel senso, ah che figata, ma qui, ah ma posso anche andare sulla terraferma magari? Non so, leggiamo le regole prima di fare cose strane. Regole, allora, non si può andare sopra il mare, ok, capito, basta, le regole sono finite. Anche i tips non sono molto utili in realtà, va bene, che dite, piazziamo un po' di terra qui vicino all'acqua che ho, che questa è acqua, cioè è acqua dentro l'acqua, fa un po' il ridere. Mettiamo un po' di questo, devo farmi una zappa, ho bisogno di legno, allora per prendere del legno, vediamo se qui c'è qualcosa, un'altra cesta con un'armatura, interessante, la indosserò subito, una spada che si chiama Jack, che non è molto forte, c'ha bene fatto il pozzo, e poi un fiore, va bene, ma io ho bisogno di legno, quindi prendiamo i miei ox sapling con un po' di bon meal, quel poco bon meal che ho ottenuto tra l'altro, e facciamo crescere un albero, facciamolo crescere qui, sperando che cresca, alleluia, boia, me l'ho già preoccupato, cocchia, ora non cresce l'albero, sono nella merda, meglio di no, meglio, meglio, meglio di no. Sento rumori strani, come se ci fosse un pesciolino fuor d'acqua, magari c'è un delfino qui accanto, sarebbe figo eh, sento rumori strani, allora qui abbiamo un merluzzo e dei pesci tropicali, che figata ragazzi, io voglio assolutamente fare un acquario in minecraftita, queste cose devo andare a prendere però, cioè che figata viene, bellissimo, e poi voglio nuotare dentro sul detto acquario, comunque qua sotto si può andare e immagino di poter trovare delle cose, però ci sono dei pezzi di vetro, sono delle torce, quello è uno scheletro, ragazzi ok, non addentriamoci, non addentriamoci in zone che mi fanno pentire di averlo fatto, qua spacchiamo un blocco, tutto questo io non ho ancora nulla, devo prendere tutto questo legno che ho e trasformarlo in planks, perfetto, abbiamo crafting table però, vuol dire che non devo specare legno, almeno quello, mi faccio un bel piccone di oakwood, e andiamo a prendere un po' di cobblestone, perché ne avremo bisogno, la prendiamo qui dal lato, tanto non ci interessa molto, vi dicevo non è un adventure map, è una survival, quindi godiamocela così com'è, così entriamo magari anche un po' più di luce, ci facciamo un bel piccone di pietra, così possono andare a minare, tanto la spada ce l'ho già anche se non è molto comoda, e ne approfitto anche per farmi una zappa, perché signore e signori ne avremo leggermente bisogno, ok, ho una zappa, una stone hole e non ho paura di usarla, tropical fish e il code, vi dirò, non so, cioè devo, buttamoli qua dentro, tropical fish e il code, facciamogli vivere, povere creature, cuccioli, 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 ok, detto questo, facciamo così, e mettiamo, melon seeds, allora no, mettiamo la patata e la carota a crescere, sperando che crescano in fretta, anche se non abbiamo chissà quanta luce solare qua sotto, siamo sott'acqua, sott'acqua, impegnativo, sott'acqua, ok, detto questo, quel piccone posso prendere il mio shulker box, così c'ho lo zainetto, dentro il zainetto, abbiamo detto che non c'è nulla, però metterò i tre libri che mi ha dato il gioco, e allora sì, no, in realtà, un libro devo tenerlo nel mio inventario e sto parlando del libro delle challenges, così capiamo subito come sarà il mood di questo mondo, usiamo lo zainetto, challenges, allora, la prima challenge è di trovare un pufferfish e catturarlo in un secchio, e ci sarebbe anche da minare un coral block e tutte cose di questo tipo, cose che al momento io non posso esattamente fare, ecco, una cosa che cercherò invece di fare, mi piacerebbe raccogliere del grano, però questa erbetta qui mi piace davvero un botto, allora, oh, cos'è quello, un delfino? No, sono tanti pesci, ciao pesci, ciao, quelli, quelli sono pesci pagliaccio, là c'è un delfino, ciao delfino, è delfino, è delfino, skipper, vieni qua, è skipper, skipper, ok, come ho detto, non ho molto cibo, non si possa mangiare il sushi, sarebbe molto comodo ragazzi, molto comodo, eeeh, non lo so, prendiamo un pisciullino, ce lo portiamo a casa, purtroppo qua non c'è nessun pufferfish, prendiamo un tropical, no, no, orca vacca, non leviamo l'acqua, non voglio levare acqua a caso, voglio prendere un pufferfish, ok, tactical fishing, ho fatto anche la ciment, purtroppo vi dicevo, non ho cibo, cioè, non ho manco modo di fare il carbone, perché tutti gli alberi sono qui, tutti i miei alberelli, sono due alberelli, riazziamoli, sperando che li crescano, li avrò messo qui se non sbaglio, mettiamoli uno di qua e uno di qua, lasciamoli crescere, speriamo che vada tutto bene, e intanto proviamo ad entrare in una caverna, anche solo per prendere un minimo di materiali, anche se qua si vede davvero nulla, c'è un po' di ferro, questo lo vedo, lo prendo, c'è anche del carbone, ottimo, questo mi farà comodo, e potenzialmente qua sotto ci sarà anche magari un mob spawner, perché nei tips c'era scritto non rompere mob spawner, guarda che ti serviranno, io mi fido, soprattutto se è uno spawner di scheletri, se è uno spawner di scheletri fidati che non lo distruggo, poco ma sicuro, ok, andiamo a prendere tutti questi minerali, ho anche degli zombie e degli scheletri, purtroppo io ho un'armatura ma un'armatura in pelle, cioè, pelle e catene, quindi le armature più schifose che ci sono, cioè è meglio l'armatura d'oro di queste cose qua, e sento anche altri delfini che fischiano, che belli, si, allora, proviamo ad uccidere uno scheletro, così mi dà le ossa, e io sono molto contento, grande, e tu cosa sei? help me, ah lui è un zombie villager, va bene, li lasciamo qui assolutamente, che sarà utile, troppa gente, troppa gente per i miei gusti così però eh, ok, proviamo ad ammazzare anche lui, vediamo se mi dà cosa di utile, uh, due ossa, e lì vedo tanta gente, tutto estremamente buio, non si vede nulla, torno a casa, anzi beh, potrei farmi delle torce, facciamoci delle torce, un minimo, non si vede nulla qui ragazzi, cioè, abbastanza, abbastanza ridicola la situa, ah, alleluia, un minimo di luce, che capisco cosa sta succedendo perlomeno, tanto, va bene, ok, mettiamo questo di qua, questo di qua, ora ho tre ossa, con tre ossa, posso farmi, cacchio, quali erano le patate, meglio non rischiare, ok, questa è la patata, preferisco le patate, perché le patate posso cuocerle, e mi danno tantissimo cibo, rispetto alle carote, quindi le preferisco, tanto, 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 guarda qui, tanto cibo per Zosuri, io sono contentissimo, posso anche metterti, altre, no, questa, ok, mettiamo un'altra patatina qui, un'altra patatina qui, e posso metterla anche qui, in realtà, sì, forse dovrei mettere un po' più vicine, però, questi cazzi, boom, patate, 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 ottimo, e andiamo a cuocere le patate che ho, sono, quante, no, le pensate tutte, sono scemo, sono scemo, sono altamente scemo, boom, speravo mi crescesse subito, invece no, ho pensato a tutte le patate che avevo, non ci voglio credere, vabbè, non mi serve per ora il cibo, stiamo tranquilli, Suri, stai calmo, stai calmo, so che è una situazione di survival, in cui non ti sei mai trovato, sott'acqua, non puoi respirare, hai paura e tutto, però stai calmo, calmo, mettiamo a cuocere il ferro, intanto, che mi sembra una cosa sensata, che potremmo utilizzare, allora, potremmo andare qua fuori, e cercare di catturare, questo puffer fish, è perché magari, me lo trovo qui vicino, e non me ne rendo manco conto, correr block, secondo me, si può fare, il pet, non ho la più minima idea, di cosa intenda lui, per trovare un pet, sott'acqua, conduit, non so come si fa, tartole egg, non ho la più minima idea, sono tutte cose che non so fare, ricreo una foresta, basta aprire, cioè, basta un po' di bombial, e fare tanti tanti alberi, quindi qui non è un problema, kill all hostile bad mods, boh, ah, perché tutti i mob, ostili, cattivi, sono, sono fissi, cioè non ne spawnano altri poi, dovrebbero spawnare comunque, comunque, il triente, mi sembra abbastanza fattibile, il delfino con il pesce, si può fare, le shipwrecks, devo trovarle, ah, fai tutti i colori di lana, trova tutte le ceste nascoste, trova il nether, vai da bedrock, ok, vuol dire che ci sono altre ceste nascoste, potenzialmente qui ci sono altre ceste nascoste, quindi, magari qua sotto, no, sarebbe scontato, sotto la sabbia, questo cos'è, un blocco di sandstone, qua c'è per forza una cesta, sicuro, boom, ah, ah, cosa ho trovato, cosa ho trovato, allora, shipwrecks, spawn egg, turtle egg, cow spawn, chicken spawn, purtroppo sono singole, però, non poteva darmi due mucche, sto infame, mi deve far penare le cose, comunque, ho, l'alto leg, non so come funziona però, c'ho un po' paura, eh, a piazzarlo così, un po' di studio, devo provare nel mondo in creative, non voglio rischiare ragazzi, comunque ho trovato 5 uova, wolf spawn egg, chicken spawn egg, questo, ahhh, questo sarà il mio cibo, sarà il mio cibo, prendiamo, prendiamo il legno, facciamo così, facciamo delle fence, di più, bisogno di almeno 6 fence, signori e signori, questo pollo sarà la mia salvezza, a livello di cibo, perché io posso andare qui, e fare, non molto in realtà, con 6 fence, non molto, se non crescono gli alberi, non posso fare molto, cacchio, eh, potrei rubarle da qua, le fence, non servono tanto, vero? ma no, vai rubiamo, ora che abbiamo, una grande quantità di fence, possiamo far nascere, il polletto, diciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto, dov'è? chicken spawn egg, boom, signor pollo, noi saremo grandi amici, grandi amici le dico, grandi amici, invece, per quanto riguarda la mucca, mi poteva servire solo per il latte, in realtà, la mucca, quindi per il momento la lasciamo qui, il lupo, il lupo è per fare il pet, ma ho bisogno delle ossa, quindi, è per fare quella missione, la pecore è per la lana, potremmo far spawnare la pecore, in effetti, però voglio fare un recinto separato, perché poi se non andare a ammazzare, i cosi, no, è rischioso, è rischioso, va bene ragazzi, ma intanto, per questo primo episodio, devo essere sincero, pensavo su un adventure map, non una serie survival, all'inizio, tipo quando l'ho scaricata, però sono contento, di fare una survival, dopo tanto tempo, davvero tanto tempo, quindi ci vediamo nel prossimo episodio, spero di non morire di fame, nel frattempo, e niente, iscriviti al canale, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Twitter, Instagram, Facebook, o comunque voi vogliate, cliccate su quella campanellina, se non volete perdere, questo che cos'è, questo che cos'è, mi hanno perso un pezzo, ah qui c'è una caverna, giustamente, scusa, no giustamente un corno, non potevi farlo meglio, scusa eh, dammi il libro, che libro è, identcess 4, ah è un indizio per la quarta cesta, vabbè, la vedremo nel prossimo episodio, intanto io vi saluto, ciao a tutti, a tutti, ciao a tutti,